Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Dario Bagatin che mi chiede di parlare del film del 2007 di Frank Odds Funeral Party poi rifatto qualche anno dopo a Hollywood come il funerale servito ed è veramente una cacatella per capire quanto il soggetto sia identico e quanto in realtà poi la storia, la recitazione e la regia siano importantissimi. Frank Odds, regista di tantissimi film è la voce di Yoda, The Muppet, inventore insieme a G. Manson di film come Dark Crystal non è qui da presentare, poi è diventato famosissimo anche con commedia come In e Out e via dicendo e qui dirige una storia molto semplice perché in realtà si tratta della storia di una famiglia che praticamente si riunisce attorno a Daniel e Robert che sono i figli di quest'uomo che è morto praticamente e quindi la storia di questi due è il primo che è un uomo semplice sposato con la sua amata Jane che vorrebbe sfondare facendo lo scrittore col suo romanzo l'altro invece vive a New York, è un uomo di successo, è un single e è tornato proprio per il funerale c'è Simon, c'è Marta, c'è il fratello Troy, ci sono tanti personaggi e poi tutto gira intorno appunto a ciò che succede a questo funerale già all'inizio è devastante, con loro che arrivano sbagliano feretro e devono tornare indietro mentre aspettano il padre e già si vola alti ma poi piano piano arriva una pocetta di Valium che insomma porta uno dei nostri protagonisti ad andare completamente lì fuori perché è tutt'altro che Valium ed è lì una situazione dietro l'altra che va sempre dall'ironia più spinta al grottesco più sparato allora sicuramente è un film che è discreto, ha fatto un gran successo è scritto benissimo, ha degli attori uno più bravo dell'altro veramente sono una gran parte tutti e il film riesce a essere interessante proprio perché Frank Oz dirige con i tempi giusti e il tipo di humor passa appunto dagli humor britannico un film è una produzione americana, inglese e tedesca insieme ma è molto inglese nel suo proprio fare appunto questa comicità e che va sul nero, che va sul cattivo in un certo senso per poi ritornare anche a una specie di gag diciamo più classica del cinema quasi muto con appunto slapstick e tutto il resto ma sono questi personaggi che sono divertentissimi, questi fratelli all'opposto questa idea appunto del funerale, dell'esercializzare la morte in una maniera così divertente come in questo film quindi è un film che insomma lentamente ci porta nella decostruzione di questa cazzo di funerale che diventa sempre più una specie di Hollywood party ecco del funerale dicendo diciamola così fotografato di lusso, bel montaggio, recitato da Dio come detto e quindi da quei tempi giusti per una commedia veramente hilari a tratti certo non è un capolavoro, non è un film che rimarrà nella storia ma è un cult di sicuro per molti e ci ha dei momenti che sono veramente devastanti è un film cattivo, è un film che lavora su un numerismo che non è assolutamente piacione c'è un certo tipo di cinema appunto alla Frank Oz che comunque unisce un certo tipo di cinema in realtà molto british che si adatta però a qualsiasi spettatore di ogni paese perché è un film molto universale per come far ridere nonostante sia chiaramente di matrice inglese come voglia e struttura però sta di fatto che il film proprio funziona per tutti il lavoro delle funzioni cinematografiche la regia che comunque è morbida e asciutta, non pretende di fare più del suo dovere tutti i mezzi cinematografici che sia la fotografia, il montaggio come ho detto anche i costumi, le scenografie che sono fantastiche sono tutta roba curatissima per un film sicuramente sopra la media sicuramente divertentissimo che è rimasto un cult ripeto ha avuto un successo enorme in tutto il mondo ad essere appunto ramichizzato di merda Hollywood un'altra volta togliendo praticamente tutto quello che dava il senso dell'umorismo nero inglese per buttarci invece quello cacciarone ameriano e quindi si perde quasi del tutto la forza di un film che sta come ho detto nei personaggi in quello che dicono, come lo dicono e come vengono ripresi Don Francozzo comunque in quel senso sull'iscudi quindi il link è qua sotto, andate sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale e qui sotto c'è il pulsante del super grazie per tornare direttamente su YouTube Facebook, Instagram, seguitemi per vedere cosa faccio a giro per l'Italia e poi insomma se amate ridere senza spengere assolutamente il cervello ma risate che si mescono a quelle di pancia, a quelle di testa questo funeral party è il film che potrebbe fare per voi, il link ripeto è qua sotto Grazie a tutti Grazie a tutti